E sono qui sempre dal Muevete di Faenza, volevo sentire un po' lo humor di Roberto che ormai è qui dentro chiuso da due giorni e devo dire che la stanchezza comunque è nascosta da questo grande sorriso di felicità. Sì, siamo contenti, i ragazzi rispondono, sono bravi, i maestri, gli artisti sono fantastici, ci stiamo preparando per poi la serata che sarà la serata dell'anno di salsa, bughi e chizomba. Dunque ce n'è per tutti. Io che conosco Roberto sta facendo una gran fatica a tenere fermi i piedi, a fare solo l'organizzatore. Sì, sì è vero, è vero, i miei maestri, quello che mi ha insegnato la cultura della salsa portoricana è che è di là che sta facendo lo stage e ho i lacrimoni a guardare lo stage e non poter partecipare, però va bene così, va bene così. Vabbè ma con lui ci studiamo tutto l'anno dunque, non c'è problema. Allora ringrazio Roberto, lo lascio andare e lascio anche a voi un altro grande videoclip, ma ci vediamo fra pochissimo. Ciao a tutti, ciao ciao.